Associazione di stampo mafioso. Vorresti il mio aiuto? Noi due insieme a Palermo in due anni facciamo la piazza politica. I brigatisti devono essere cacciati dalle fabbriche, ci sono dei manciari! Vedi, gli operai chiedono un salario decente, qualche sicurezza e un po' di tempo da dedicare alla famiglia. Ma non vogliono la vostra lotta. Io sono un soldato come te. Vedi, il tuo esercito ha perso. Ma tu puoi arrenderti e risparmiare tante vite umane oppure puoi accettare un altro massacro. A te la scelta. Basta! Basta con la violenza! Tutti a fermare la petizione! Tutti!